tribù rossonera buona domenica buon 1 di dicembre buon inizio mese a tutte a tutti stavo aspettando il finale dell'incontro fiorentina inter da un lato aspettandomi una gufata e quindi fare un altro tipo di video e dall'altra fare un po il commento di quest'ultima giornata di campionato che vedrà ancora lecce juventus alle 20 45 ma dopo la vittoria del napoli a torino 1 a 0 partita bruttissima dei partenopei però ha portato a casa i tre punti tutti ci aspettavamo questo fiorentina inter una partita tra due squadre che sono al vertice una fiorentina sta facendo un grande campionato anche lei secondo terzo posto però purtroppo non riesco neanche a sinceramente tutto quello che avrei voluto dire in questo momento non ha nessun significato non ha nessun senso perché intorno al quindicesimo minuto dell'incontro fiorentina inter edoardo bove accusato un malore ed è si è accasciato sul terreno di gioco subito sono intervenuti gli addetti medici l'ambulanza che c'era lì a bordo campo e secondo quello che si è visto secondo le prime ricostruzioni il centrocampista viola si era inginocchiato semplicemente per allacciarsi le scarpe ma in quel momento si vede che accusato un malore ed è precipitato a terra avendo perso anche i sensi ovviamente i compagni della fiorentina si sono messi tutti a tutti attorno a lui per proteggerlo anche da da immagini televisive che in questi casi sanno più di di scoop da veramente da vampiri bisogna rispettare io credo certe dinamiche tant'è vero che anche nella copertina l'avete visto io ho un'immagine in cui si vede lui a terra con la bocca in fuori bruttissima però per rispetto del ragazzo come avete visto non ho messo nessuna immagine se non solo la mia perché ci sono cose nella vita che bisogna esseri esseri umani essere degli esseri umani e non delle larve schifose approfittatrici e questo è quello che normalmente fanno tanti giornalisti e giornalacci per avere lo scoop e quindi in questo momento ovviamente mi risulta difficile poter parlare di calcio nella maniera più sana più tranquilla possibile perché ero davanti e proprio alla tele con mio figlio è stato uno shock è stato uno shock vedere un ragazzo di 22 anni che potrebbe essere mio figlio e una situazione del genere a livello personale l'ho vissuto non io direttamente ma la mia prima fidanzata aveva un cugino in sicilia alla provincia di siracusa di 21 anni che mentre stava giocando a pallone con suo padre sua madre e i tre fratelli che erano in tribuna a un certo punto e questa è una storia di più di 25 anni fa si è accasciato a terra ha avuto un infarto e neanche il tempo che poi figuriamoci lì in sicilia una partita dilettantissima ora che arriva l'ambulanza e tutto il ragazzo è morto a 21 anni fortunatamente in questo momento non parliamo di questo il pericolo sembra scongiurato bove respira in maniera adesso autonoma il battito del cuore per quanto ci sono delle ansa che dicono a un battito lento però ha ripreso conoscenza ovviamente lo shock è grosso e adesso ovviamente si aspetteranno delle notizie anche perché caressa da una parte sky stava tenendo un po aggiornata la situazione ma dall'altra dicevano attraverso adn chronos notizia delle 19 18 che il cuore battesse lento in ambulanza non ci fosse battito autonoma a differenza di quello che stavano commentando nella tele quindi siamo tutti almeno noi tutti sportivi in apprensione per questo ragazzo questa situazione fa denotare una cosa che davanti a situazioni del genere il calcio diventa un'unica cosa non ci sono più colori non ci sono bandiere c'è solo umanità che quello che dovrebbe essere tutti i giorni e quindi al di là degli sfottò al di là di tutto davanti a dei drammi umani è difficile prendere posizioni bisogna sempre e semplicemente rispettare quello che è successo per ricordare i casi più eclatanti di situazioni che sono successe in situazioni simili bisogna risalire al 77 ad andrea cecotti centrocampista della propatria che aveva un malore in campo e morì pochi giorni dopo una trombosi alla carotide leonello manfredonia nel 1989 che era giocatore della roma fu vittima di un arresto cardiaco durante una partita contro il bologna grazie all'intervento tempestivo dei medici si salvò ma da quel momento dovette interrompere la carriera lo stesso di casi durante l'europeo penso che tutti ci ricordiamo nel 2021 christian ericsson che all'epoca era giocatore dell'inter subì un arresto cardiaco proprio in campo fu salvato grazie all'intervento immediato dei soccorritori sottolineando poi proprio l'importanza dell'urgenza dell'emergenza immediata davanti a situazioni del genere ma soprattutto grazie anche a simon kier che in quel momento era riuscito a in un certo modo bloccare la situazione e favorire molto di più l'ingresso dei dei medici nel 2018 ricordiamo che a firenze anche c'è stata già una situazione molto pesante con la morte di davide astori che sebbene non fosse stato durante una partita di calcio la morte proprio del capitano de viola era in un hotel durante una trasferta che poi creò questo evento scioccante la causa fu una fibrillazione ventricolare che probabilmente legata a una cardiomiopatia genetica e piermario morosini il centrocampista del livorno nel 2012 si accasciò a terra durante una partita contro il pescara e morì poco dopo soffriva di una cardiomiopatia aritmogena una malattia cardiaca rara e difficile anche da diagnosticare infine il difensore della roma evan dica nel 2024 proprio accusato un malore improvviso in campo nella scorsa stagione durante la partita tra udinese e roma e la partita ovviamente è stata sospesa nel secondo tempo fortunatamente il giocatore trasportato in ambulanza proprio per tempo è riuscito a rimettersi senza particolari conseguenze ma al di là della paura iniziale poi per un problema pneumo toracico si risolse altre non successe anche col sassuolo con obiang e ripeto io sono una persona che sono molto sensibile davanti a queste a questi fatti queste situazioni vanno più in là del calcio e siamo tutti con te a forza eduardo ti voglio rivedere il prima possibile in campo a star bene a far gioire i tuoi tifosi e soprattutto visto che le notizie che arrivavano c'erano già i suoi genitori c'era 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 la sua fidanzata c'era tutto lo staff viola c'era palladino dirigenti della juve del della fiorentina all'ospedale carigi di firenze pensa che hai non solo la tua famiglia di sangue vicino ma i tutti i tifosi i veri sportivi d'italia che sono lì con te in questo momento quindi eduardo forza che noi ti aspettiamo non solo con la fiorentina ma anche con la nazionale italiana ti voglio rivedere prima possibile in campo sei un guerriero forza eduardo siamo tutti con te con questo chiudo la serata signori non ho altro da aggiungere davvero non ho volevo darvi una una buona notizia per il processo di unidì rosso nero ma ne parleremo domani e soprattutto sperando che durante la nottata possano esserci solo buone notizie per questo ragazzo perché sinceramente mi ha mi ha scosso e non poco buona serata a tutti a tutti e noi ci sentiamo e ci risentiamo alla prossima su questo canale sugli altri in serata da uscire l'ultimo appuntamento di saggezza popolare perché questa è stata la decisione poi da lì ci saranno dei cambi che vi narrerò nei prossimi giorni però oggi proprio non è giornata un bacio a tutti a tutti buona serata e ci sentiamo domani qui su questo canale e ormai quello già fatto quindi fra un'ora uscirà questo audio in saggezza popolare che ripeto sarà l'ultimo audio del canale perché poi ci sarà qualcos'altro che che aspetterà ci sarà una novità anche in saggezza popolare grazie di nuovo e ci sentiamo alla prossima ciao